Musica Serie C, il Gubbio ratifica ufficialmente l'iscrizione al campionato 2016-2017 Conferme rinnovi con i main sponsor College M Cimenterie Barbetti Serie D, il Città di Castello avrà la sua scuola calcio Automodellismo Dario Balestri conquista Gubbio il warm-up del mondiale Che si terrà al mini autodromo Rosati dal 4 al 14 di agosto Vole l'Umbria maschile di Coach Sideri eliminata al trofeo delle regioni Buonasera, ben ritrovati con il TG Sportivo Il Gubbio è ufficialmente iscritto al prossimo campionato di Serie C In mattinata il ragioniere Fabio Cecchetti si è di fatti recato negli uffici della Lega Pro a Firenze Dove ha consegnato tutta la documentazione necessaria Comprendente l'assegno della 105.000 euro di iscrizione A cui va aggiunta la fideiussione di 350.000 euro Una formalità che la società eugubina non aveva mai messo in discussione Visto che il presidente notari già da diverse settimane Aveva sistemato tutte le pratiche legate alla logistica e all'impiantistica Senza dimenticare la questione economica con la società eugubina Perfettamente in ordine nei pagamenti dell'ultima annata Da segnalare che il budget totale di spesa è stimato intorno al milione e mezzo di euro Se sarà superata questa soglia la fideiussione sarà aumentata dal 30 al 100% In relazione a quanto sarà ampio il monte ingaggi Da segnalare inoltre che negli ultimi giorni hanno avuto luogo gli incontri Tra la società eugubina e i vertici dei main sponsor Collage Cementieri Barbetti Ai quali è stato illustrato il programma tecnico ed organizzativo per la nuova stagione Entrambi i gruppi cementieri hanno secondato le richieste della società Rinnovando l'importante contributo economico per la stagione 2016-2017 Ora in attesa di capire se, quali e quante società saranno escluse dalla nuova Serie C a 60 squadre Tutte le attenzioni si versano sul mercato In attacco il DS Pannacci continua il forcing per Curiale Che ha sorpassato scappini nelle strategie societarie Ma restano valide anche le piste che portano a Polidori del Rimini e dalle Gretti della Vibonese Calcio mercato in primo piano anche per il Perugia Dopo aver completato le pratiche per l'iscrizione al campionato di Serie B Per la difesa il responsabile dell'area tecnica Goretti sta provando a piazzare il gran colpo Con il 23enne Chiosa laterale Mancino visto negli ultimi due anni Ad Avellino dove si è fatto apprezzare come uno dei difensori più versatili del campionato cadetto Il cartellino di Chiosa è di proprietà del Torino Il Grifo cercherà di strapparlo alla folta concorrenza Ma in alternativa trattativa è già avviata con il parietà Mignanelli del Pescara E con la Lazio per il classe 97 Germoni A centrocampo oltre a Filippe verso l'addio sia della Rocca Su cui c'è forte il Cesena e Rizzo richiesto da Cagliari e Vicenza Mentre in entrata l'obiettivo resta l'esperto Brighi in uscita da Bologna Infine in attacco resta in po' il Donnarumma della Salernitana Intanto è stato rinnovato per altri tre anni con opzione per ulteriori due stagioni Il contratto a Mirval, attaccante classe 96 nativo della Guadalupe In Serie D è ufficiale la notizia che il Città di Castello avrà una sua scuola calcio Toccherà ad Antonio Giogli, nuovo coordinatore tecnico del settore giovanile Gestire in prima persona questa nuova sfida che a breve verrà ufficializzato lo staff di struttori Una politica che fungerà da riferimento anche in ottica prima squadra Visto che la Società Tifernate ha in serbatoio già dal 2016-2017 Una rosa all'insegna di carte d'identità non datate Grazie all'aiuto di società professionistiche geograficamente vicine ai colori bianco-rossi Invece non è ancora avvenuta la presentazione del nuovo tecnico del Foligno, Tommaso Guazzolini Che sarà ufficializzato la prossima settimana La Società Tifolignate sta stringendo i tempi per iscrivere la squadra al prossimo campionato di Serie D Con fideiussione da 51.000 euro da consegnare e le pendenze relative alla posta stagione da onorare Passiamo al basket Andiamo alla Serie A1 femminile Altro colpo di mercato in pallacanestro femminile umbertile Che ufficializza l'innesso di Ella Clark alla pivot britannica classe 92 Che sarà una delle tre straniere che andranno a completare il roster umbertinese Per la prossima stagione Ella proviene dal campionato spagnolo dove ha indossato nell'ultima stagione la maglia delle Gernica Bizcaia Clark sarà una delle lunghe del roster allenato da coach serventi Che anche nella prossima stagione punterà sulle giovani Da 2006 al 2008 ha fatto parte della nazionale britannica Under 16 Per passare successivamente all'Under 18 nel 2009 Ha fatto parte della nazionale Under 20 Che ha chiuso all'ottavo posto l'europeo di categoria nel 2011 A Navisad in Serbia Nel 2013 per Ella Clark si sono aperte le porte della nazionale maggiore del Regno Unito Passiamo ora al volley Perché entra sempre più nel vivo il trofeo delle regioni Kinderia di 2016 La manifestazione più importante a livello giovanile Ospitata quest'anno proprio dall'Umbria Allora le semifinali del torneo maschile Previste per domani mattina Vedranno di fronte Puglia Veneto E Lombardia Piemonte Mentre viene eliminata l'Umbria sconfitta 2 a 1 nel doppio confronto con Emilia Romagna e Piemonte Sentiamo allora le parole dell'allenatore e della rappresentativa maschile Enzo Sideri Cosa vuol dire giocare un trofeo delle regioni in casa davanti al proprio pubblico? Beh è molto emozionante poi in questa terra che è meravigliosa Quindi oltre alle emozioni del campo si vivono delle atmosfere meravigliose Che sono legate alla terra Umbra Sicuramente una fase di preparazione particolare per voi Come avete preparato questo evento? Evento in casa ripeto Beh noi abbiamo previsto un piccolo collegiale in previsione appunto dell'inizio del trofeo delle regioni Dobbiamo dire che quei quattro giorni passati insieme ci hanno pagato molto I ragazzi sono un gruppo veramente eccezionale Siamo riusciti ad acquisire un'identità di squadra E ciò ci ha permesso di compensare magari delle lacune Sia dal punto di vista fisico che tecnico-tattico Quindi è stato molto importante sia per la socializzazione Che per il miglioramento e l'affinamento del nostro sistema di gioco Le Kinderi ha di un appuntamento importantissimo per la crescita sportiva di questi ragazzi? Ma sì è una manifestazione bellissima Abbiamo i migliori under 16 d'Italia Quindi per chi ama questo sport è un momento veramente È il culmine insomma di tutta la stagione Di tutti gli eventi giovanili Quindi qua si ritrovano i migliori atleti giovani Le speranze di questo sport per il nostro futuro Parliamo ora di automodellismo Perché si avvicina sempre di più l'appuntamento con il mondiale IFMAR In programma dal 4 al 14 di agosto A Gubbio al mini autodromo Rosati In archivio di fatti il warm up della competizione continentale È andato in scena presso l'impianto Eugubina Prove generale di mondiale al mini autodromo Rosati di Gubbio Lo scorso weekend infatti il circuito Gubbio designato per ospitare la rassegna mondiale Per vetture in scala 1 a 10 in programma dal 4 al 14 agosto Ha visto svolgersi il World Championship warm up Dove ad imporsi è stato il forte pilota pisano Dario Balestri Già campione europeo per tre volte in carriera Il quale si è piazzato davanti a tutti con il suo moderno Capricorn su motore Tesla Balestri ha bruciato la guerrita concorrenza del pilota tedesco Già campione del mondo e per ben due volte ridato europeo Robert Pisch Vero e proprio cavallo di battaglia della scuderia giapponese Mugen Seiki A completare il podio invece un altro italiano Ovvero il siciliano Alessio Mazzeo Ufficiale della olandese Serpent Un primo assaggio per gli appassionati osservatori di questa disciplina Una sorta di riscaldamento invece per i piloti che si preparano dunque Alla rassegna mondiale del prossimo agosto E non finisce qui perché a Gubbio continueranno ad arrivare nei prossimi giorni Specialisti da tutto il mondo Che fino a fine luglio saranno il mini autodromo Eugubino Per effettuare i test di preparazione In questi giorni infatti in pista tocca il canadese Minialupu E l'americano di origine cinese JJ Wang Appena diciottenne ma già con un lungo curriculum di gare alle spalle Dalla prossima settimana arriveranno altri piloti di primo piano E il team ufficiale X-Ray Poco più di un mese al mondiale in terra a Gubina Con i piloti che testano i propri automodellini E soprattutto imparano a conoscere il circuito Ai più sconosciuto gestito e curato dal club automodellistico 5 Colli Chiudiamo parlando di Braccio di Ferro Perché l'Eugubina Chiara Acciaio si aggiudica il titolo di campionessa italiana A Monzano si è svolta la ventunesima edizione della rassegna iridata italiana Che ha visto coinvolti atleti provenienti da tutta Italia Coinvolti nelle varie categorie Chiara Acciaio si è imposta nella categoria 50 kg Un successo che gli ha valso il pass per i mondiali di Braccio di Ferro In programma in Bulgaria il prossimo anno Seconda piazza invece per l'altre Eugubino Mirko Pierotti che ha ceduto soltanto nella finalissima per i 75 kg Entrambi fanno parte del team Braccio di Ferro Marche Ma si allenano presso la palestra Bodyline Center di Gubbio Allora complimenti a loro È davvero tutto per questo TG Sport Grazie per averci scelto Vi lascio ancora con l'informazione targata TRG Domani mattina alle 7.30 la rassegna stampa Anche per leggere le pagine sportive dei quotidiani regionali E poi il nostro sito trgmedia.it Per seguirci via streaming o per essere aggiornati in tempo reale Grazie e buona serata Grazie a tutti